Cosa fa un pasticcere quando muore sua moglie? La crema! Michè? Michelo? Resi, resi, besi, besi, tanti amori senza sorrisi Perché rispondi così? Ah, l'immedesimazione Eh, gaglie! Chi vuol strapparmi la barba e tirarmela in faccia Simo, su questa battuta serve un taglio più netto Per la gioia di avere un uomo e di sposarmi dentro un conto Mai dico, è stato tradito dal proprio destino Oh, mi dè, mi dè, mi dè Chi vuol strapparmi la barba e tirarmela in faccia Ho accostruito il proprio destino Ma come avrà fatto quella non vedermi? Ahahahahah Shhh! E dai, glan, un po' di vita Dobbiamo andare a lezione, vai presto In un'astronave più veloce della luce funzionerebbero i vari Voglio un segno, voglio un volto che mi appaia nell'acqua di sciolto Sasi Manu, Manu, a che ora è lezione stamattina? Io credo che il teatro debba essere giovane Ma perché rispondi così? Ah, il personaggio, eh? Il personaggio Sasi 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 Sasi